la mia vita è una notizia che si tratta di una nuova e il tuo nome è un'altra cosa che si tratta di un muro che non si fanno male questa festa va bene ti scassa tutto non mi metti l'accordo non si può descrivere questa cosa non mi vuole a tutti i persone magari a quella che non mi capisci non mi vuole non ci possiamo fare niente perché deve essere così e basta e se volessi a nuovo va bene se la forza non mi cogliere non mi vuole cacciare due prova cascatele in questo luogo ma il gelato il Dugio è bello dovare a far l'arrivo proprio quello che non ero questo e quello l'ha sentato a festa poi mi diceva visto su questo lato ma che fa? e trovo questa signora sempre che deve all'offra e questa cosa signora ci ha detto? io all'offra sempre tutta l'anno chi dà? io all'offra la fai e se chiederebbe c'è una cosa da carica emotiva che la dici ha l'istinto da fare ibiare questa cosa è una cosa proprio che si sente la caricia se non si sente a carica ogni giorno che passa non c'è l'offra si prepara la sina tutta bella pam 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 non io non è stanco mai ogni giorno sembra un po' bassa no? mai io sta andata ma è stanco e poi niente ancora no? uno senta il cioccolato che è finita no? niente ancora rietta o gioia? evitavano che necessitavano e tutta bella non mi era mai ne scattavo qua un giorno c'è tanta volta ma niente ne vediamo magari queste cose non mi è una cosa sono sempre ho capito quando guarda la domanda la domanda della domanda di marion